Salve a tutti amici YouTube bentornati su Infinity Games Ragazzi ormai mancano poche ore all'uscita della prova gratuita dell'abbonamento Ubisoft Se già ragazzi esce esce si chiama Uplay Plus e se volete un bel po' di informazioni basta andare sulla piattaforma Uplay se non ce l'avete scaricatela e una volta che l'avete scaricata e entrate all'interno di Uplay troverete qui in alto a destra prova gratuita gratuitamente il servizio di abbonamento Ubisoft Perché dice in settembre ragazzi ci clicchiamo sopra e ci dice che per un mese quindi dal 3 settembre fino al 30 settembre sarà gratis ok perché è un mese di prova successivamente partirà questo abbonamento che è un abbonamento di 14,99 euro mensili cioè 15 euro io ho sentito parlare molto ma molto e molto su questo tipo di abbonamento e ne ho sentito un po' di tutti i colori cioè qualcuno che dice che era un'ottima cosa altri ancora che dicono no non serve a niente perché spendere questi soldi eccetera allora ragazzi non si può dare torto né a uno e né a un altro perché secondo me questi tipi di abbonamenti sono soggettivi cioè dipende le cose variano da persona a persona cioè nel caso mio io ho cercato di fare un po' diciamo così due conti insomma ci ho pensato tanto sia a livello pratico che economico pratico per il tipo di giochi che ci sono per la quantità di giochi che ci sono economico per capire se effettivamente poi ne soffruisco io di questo abbonamento ebbene ragazzi devo dire la verità è vero ci sono dei pro e contro ovviamente 15 euro al mese vuol dire che è una tassa fissa da pagare mensilmente per questo tipo di abbonamento però innanzitutto cerchiamo di capire a che serve cioè a noi principalmente serve questo abbonamento allora io vi dico di andare a vedere se non avete la piattaforma play ragazzi andate su ubisoft.com andate lì e troverete tutte le indicazioni allora cosa ci dà questo play plus io già feci un video tempo fa dove appunto spiegavo un po e dava alcune informazioni però da allora ho cercato un po di aggiornarmi su determinate cose allora effettivamente sì da più di 100 giochi le prossime uscite ragazzi molto importante perché ragazzi troviamo anche di fronte a titoli che costano 60 euro e se non di più addirittura per non parlare poi dell'ultima edition della gold edition e così via edizioni premium quindi ragazzi include anche le edizioni premium disponibili con dlc ed espansioni e chiaramente possiamo decidere quando vogliamo quando vogliamo a ragazzi per vedere quanti giochi ci sono a prima di questo ragazzi è importante anche che ci sono anche la possibilità di poter giocare tre giorni prima dell'uscita di un titolo per esempio adesso esce ghost racing breakpoint noi tre giorni prima dell'uscita possiamo giocarci ma non è tanto questo perché poi alla fine figuriamoci io stesso i grandi titoli ma proprio perché dovevo spendere quei soldi ho acquistato il gioco in preordine il primo giorno già stavo giocando a quel titolo ma non è tanto quello ma il tipo di titoli che danno allora ragazzi noi qui abbiamo tutta la serie ghost racing tutta la serie rainbow six tutta la serie di assassin creed tutta la serie di watchdogs tutta la serie di for cry tutta la serie di division ragazzi questi sono a impatto i primi cioè stiamo parlando di titoli che ancora oggi costano 30 40 50 60 euro cioè non costano poco ok se poi vogliamo vedere tutti i giochi basta scendere fine giù e appunto andremo a vedere cosa ci dà allora ragazzi ghost racing breakpoint gold edition c'è ragazzi la gold edition costa fidatevi di me oppure andate a vedere se non vi fidate costa watchdogs legend costa altrettanto division 2 se andate a vedere costa ancora un sacco di soldi ok anno 1800 ragazzi quelli che state guardando è proprio così sono gratuiti ok con 15 euro al mese vedete tutti i for cry vi da tutti i for cry ci sta addirittura sprinter cell blacklist ma tanti altri assassin creed e poi ragazzi dovete leggere anche sotto vedi c'è ci sta la standard edition per alcuni giochi ma ci stanno anche altri a gold edition deluxe edition cioè comunque non è da poco ragazzi eh questi sono tutti i giochi che loro danno gratuiti è che il tipo di catalogo che adesso stiamo guardando varierà cambierà sempre di più ok e chiaramente si aggiornerà con i nuovi titoli che dovranno uscire sul sulla piattaforma ovviamente sto facendo vedere un po velocemente tutti i giochi almeno quelli che per questo mese danno poi mese per mese vedremo ragazzi poi ovviamente è un abbonamento che come ho detto prima può essere disdetto in qualsiasi momento quindi se uno non è contento in questo momento sono contento no di provare questo abbonamento anche per voi per capire un po se veramente ne vale la pena se io vedo che fra due mesi tre mesi quattro mesi questo abbonamento non mi soddisfa più io prendo e disdico non è che la cosa è molto complicata non è che tu stipuli un contratto con questi dell'ubisoft ok quindi ragionateci ma soprattutto ragionate su questo ragazzi se come me voi all'uscita di watchdogs volete acquistare watchdogs ragazzi vi fate tanto 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 male la stessa cosa vale per ghost reason black point ragazzi mi voglio comprare oggi un anno 1800 ma adesso vi faccio vedere quanto costa uscirà anche tom clancy's rainbow six quarentine assassin creed odyssey ma adesso voglio farvi vedere con mano anche per capire dove è arrivato il mio diciamo il mio ragionamento che se conviene oppure no allora ragazzi se io voglio prendere anno 1800 se si carica vabbè vediamo la standard edition allora ragazzi sta 40 euro la standard edition per alcuni giochi ragazzi consiglio sempre delle espansioni e quindi già la deluxe 46 la gold edition 71 euro e andiamo avanti non finisce qua ammettiamo che io voglio giocare ad assassin creed odyssey lo voglio comprare ok 30 euro va bene ma per un gioco come assassin creed io almeno personalmente non prenderei mai la standard edition partirei da una gold da una gold edition minimo una gold edition e sono 40 euro ma andiamo ai giochi più richiesti vogliamo prendere un for cry new down c'è ragazzi in pratica quello che vi sto cercando di fare capire avete visto noi i prezzi di for cry se invece vado direttamente su ghost reason black point c'è ragazzi la gold edition che loro ci danno gratis costa 99 euro 100 euro costa c'è sono tanti ma tanti soldi ma mettiamo il caso non voglio essere così esagerato voglio prendermi la standard edition i primi titoli appena usciti costano 60 euro allora io ho fatto questo pensiero ho detto vabbè è vero uno può anche dire ma io non me lo compro subito appena esce normale mica so pazzo aspetta un anno e scende a 20 a 25 a 30 e ragazzi ma fra un anno anno e mezzo sarà sempre 25 30 euro ce li sei pagato sempre due mesi di abbonamento almeno questo il mio ragionamento poi posso sbagliarmi perché sono impressioni personali ragazzi non è non voglio assolutamente ne fare pubblicità di ubisoft perché non me l'ha chiesto nessuno è un mio parere però io penso che se vado acquistare un gioco 60 euro adesso ma pure fra fra un anno e mezzo 30 euro tengo due cose che non vanno la prima è che mi gioco un titolo un anno e mezzo dopo l'altro è che comunque ho speso 30 euro ok allora io ho pensato per esempio nel caso mio prendo una bella 60 euro ecco quanto costa ghost reason breakpoint e a fine settembre io mi sono pagato ottobre novembre dicembre gennaio e tengo tutto quel catalogo di giochi che vi ho fatto vedere poi ragazzi le cose possono cambiare può essere pure che come ho detto prima fra due tre mesi mi rompo le palle non mi soddisfa più io voglio il mio gioco ok voglio giocare i miei titoli come dico io me li voglio acquistare come dico io a me sta buona vento non mi va più ci sta ci può stare però ragazzi io penso che al momento se davvero il prezzo resta questo perché attenzione io ho mandato anche un email all'assistenza di ubisoft facendo una semplice domanda chiedendo appunto se si era già conoscenza di una eventuale possibilità di aumento dell'abbonamento cioè che ne so da 15 va a 20 e poi a salire da come loro mi hanno risposto mi hanno detto che no assolutamente no per quello che loro sanno l'abbonamento resta così e il prezzo è questo quindi ragazzi io spero che sia così perché poi al momento che non conviene più uno disdice e la finisce la cosa quindi chi è interessato a questo tipo di abbonamento che poi tra l'altro oggi ragazzi le console hanno abbonamenti cioè Xbox One tiene un abbonamento che è la stessa cosa più di 100 giochi tra cui i primi titoli che escono dei vari diciamo delle varie case io direi che ragazzi conviene 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 e non si può dire assolutamente nulla secondo me ne vale la pena insomma uno deve provare per se voi volete informazioni aggiuntive e non avete la piattaforma Uplay ragazzi andate su Ubisoft.com andate sul sito ufficiale dell'Ubisoft e vi andate a leggere tutte le informazioni ma potete se avete la piattaforma Uplay andare direttamente qui come vi ho fatto vedere prima e vi dicono tutto ormai manca qualche ora perché è il 3 settembre e oggi ne abbiamo due quindi vediamo un po' cosa effettivamente ci dà questo Uplay e ragazzi cosa dire io spero di essere stato chiaro di avervi dato almeno quelle piccole informazioni base che vi possono aiutare a comprendere Uplay Plus e capire se effettivamente ne vale la pena oppure no e poi soprattutto l'ho fatto questo video per ricordarvi per chi vedrà questo video oggi pomeriggio stasera per farvi capire appunto farvi ricordare ragazzi attenzione domani parte questo abbonamento vabbè ragazzi io direi di concludere qui il video se è stato interessante vi è piaciuto in qualche modo ragazzi iscrivetevi al canale e mi raccomando di cliccare sopra la camparella per restare sempre aggiornati perché non ho un giorno ben preciso dove vado a creare i miei video ma in base alla disponibilità di lavoro casa e tante altre cose io sono capace di fare anche 2-3 video nello stesso giorno quindi se cliccate sulla camparella restate aggiornati su tutto e anche perché adesso che domani mi parte anche l'abbonamento penso di portare sul canale tantissimi titoli ragazzi quindi per restare aggiornati cliccate sulla campanella e beh da Infinity Games è tutto ragazzi e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti